Buongiorno e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Medicina Top. Anche oggi avremo delle star che condivideranno la trasmissione insieme a noi e sarà una puntata particolare perché in buona parte è femminile. Le ospiti saranno infatti Lydia Rotavender con la quale parleremo di trombosi, fenomeno alla base di patologie anche molto gravi. Susanna Esposito, professoressa Susanna Esposito, che ci spiegherà le particolarità del Covid nei bambini e col dottor Filippo Ongaro, soprannominato medico degli astronauti, che ci darà importanti suggerimenti su come vivere bene nonostante lo stress. Il primo argomento è l'argomento delle trombosi, quindi l'ospite Lydia Rotavender via a servizio. La trombosi è il fenomeno causato dalla formazione di un trombo, cioè un coagulo di sangue nelle vene, nelle arterie o nel cuore, che ostacola o blocca il flusso sanguigno. Si calcola che ogni anno 600.000 persone in Italia siano colpite da trombosi, mentre i meccanismi alla base di questo fenomeno sono responsabili di circa il 25% di tutti i decessi che avvengono ogni anno nel mondo. Sì, perché la trombosi non è una malattia, ma determina malattie anche molto gravi, come ictus, infarto e tromboembolia polmonare. E non ha mai una sola causa, per questo viene definita delitto di squadra. I fattori che la determinano sono uno squilibrio del sistema della coagulazione del sangue, una lesione dell'endotelio, cioè il tessuto che ricopre all'interno delle vene o delle arterie, e un rallentamento della circolazione del sangue. Tutti questi fattori sono influenzati sia dalla genetica, sia dallo stile di vita. Lidia Rotta-Bender è specialista in ematologie e malattie cardiovascolari da trombosi e oltre 30 anni fa ha fondato l'associazione italiana Lotta alla Trombosi, di cui è anche presidente. Ciao Lidia, benvenuta a Medicina Top, è un piacere averti con noi oggi. Abbiamo sentito numeri e percentuali nel servizio di presentazione, Lidia, che sono numeri per certi versi impressionanti, devo dirti. Quindi c'è motivo per essere allarmati e penso che tutti a casa dei nostri amici lo siano, ma cosa si può dire invece per tranquillizzarli? Allora, trombosi è una parola cupa, perché evoca qualcosa di tragico e molte persone pensano che trombosi sia qualcosa che ha a che vedere col cervello. Ha a che vedere col cervello, trombosi è il meccanismo che provoca la formazione di un coagulo di sangue in un punto e in un momento in cui non si sarebbe dovuto formare. Il sangue è una meraviglia di elemento, nel quale scorrono globuli rossi, globuli bianchi, scorrono le piastrine, quindi il sangue sembra liquido ma non è liquido per niente, è pieno di tante cose, è pieno di proteine, è pieno di messaggeri, è pieno di ormoni. Per noi che non sappiamo cosa è il sangue, Lidia, in questa immagine? Allora, quelli più grossi sono i globuli rossi, il nostro sangue contiene i globuli rossi che sono nell'ordine di milioni e sono rossi perché trasportano ossigeno, perché hanno dentro all'interno un atomo di ferro, quindi il colore rosso del nostro sangue è dato dall'ossigeno che c'è dentro al globulo rosso. Quelli bianchi sono i globuli bianchi che sono i nostri difensori, quelli che ci difendono quando noi veniamo attaccati da un nemico che può essere un virus, un batterio. I globuli bianchi sono un po' più piccoli, poi ci sono quelli piccolissimi che non si vedono quasi, che sono fatti come se fossero delle peanuts, delle noccioline, che sono le piastrine ma sono molto più piccole di così per la verità e che sono gli elementi fondamentali della coagulazione. Tutti questi elementi che scorrono nel sangue hanno tutti un ruolo straordinario ma soprattutto parlano fra di loro. Il nostro sangue deve scorrere veloce e liquido, liquido non è la parola giusta, fluido, deve scorrere partendo dal cuore dove è pieno di nutrienti, entrare nella orta che è il canale principale, la orta si dirama come un sistema di irrigazione in tantissimi rami più piccoli, sono le arterie che diventano, ma gli scambi lasciando nutrimento e riportando spazzatura avvengono nel microcircolo, quindi la spinta che il cuore dà deve essere abbastanza importante e l'elasticità delle arterie come la orta deve essere abbastanza importante da portare il sangue fin là in fondo dove avvengono gli scambi. Il sangue sporco torna indietro attraverso le vene che sono più piccole, diventano più grandi, più grandi e tornano al cuore. Il cuore spedisce tutto a pulirsi dai polmoni, se tutto va bene in due minuti hai fatto tutto il giro e il giro ricomincia. Se io potessi mettere un chicchino di granello di sabbia dentro il sangue in due minuti ha fatto tutto il giro e è già tornato. E tornando all'immagine di prima Lidia, se la regia ce la farei avere un'altra volta, cosa succede? Cioè questo potrebbe essere l'immagine di una situazione normale, ci sono tutte queste cellule tutte insieme che scorrono abbiatamente, fluidamente, come dicevi giustamente tu, lì dentro. Ma invece cosa può succedere? Si impilano, perché si intoppano? Beh, si impilano, intanto si impilano quando arrivano in vasi così piccoli, ma così piccoli che tendono ad impilarsi, ma soprattutto hanno all'interno nel sangue, ci sono anche delle proteine, delle sostanze che sono capaci, perché sono intelligenti, di riconoscere se c'è bisogno che il sangue invece di essere in questo stato cosiddetto fluido, deve cambiare stato e diventare gelatinoso e quindi deve formare un coagulo, perché cosa? Per una buona intenzione, deve guarire, deve fermare l'emoragia, deve costruire il tessuto, sempre una buona intenzione, che però deve essere controllata, quindi noi abbiamo dei pro-coagulanti che si chiamano come i papi, con il numero dal primo al tredicesimo, il numero romano e abbiamo tre anticoagulanti che si chiamano CS antitromina, che sono tre sostanze che fanno la guardia e dicono al sangue adesso basta, è coagulato abbastanza, quindi fermati altrimenti esageri. Tutto questo meccanismo non avviene soltanto sulla pelle quando noi ci facciamo un taglio, il sangue esce liquido, poi diventa una gelatina, poi diventa una crosta, questo stesso nell'arco di una frazione di secondo continua ad avvenire nel nostro circolo, ma deve essere controllato, quando noi abbiamo uno squilibrio fra i fattori che vogliono far coagulare il sangue e i fattori che dovrebbero trattenere dal coagulare troppo, può darsi che succeda che si formi un coagulo di sangue inappropriato e che quindi può chiudere un vaso. E noi abbiamo possibilità, Lidia, come facciamo a accorgerci che c'è qualche segno rivelatore nella trombosi? Ci sono sempre segni rivelatori che... Cioè io in questo momento sono qua, sono apparentemente sano, cos'è che mi può far pensare? Allora dipende da dove si forma il coagulo, perché il coagulo, il trombo, si può formare dentro una vena periferica di una gamba, in un piede, tu quasi non te ne accorgi, può darsi che il piede si gonfi, può formarsi in un'arteria cerebrale e allora ti toglie una funzione molto importante, può formarsi dentro le coronarie e l'ertere del cuore e allora c'è l'infarto, quindi il problema nel comunicare la trombosi è proprio che stiamo parlando del meccanismo che genera malattie che noi conosciamo con nomi diversi, sappiamo che si chiamano ictus cerebrale, sappiamo che si chiamano infarto del mio cardio, sappiamo che si chiamano trombosi ma allora gli organi vanno curati dallo specialista d'organo, quindi l'infarto va curato dal cardiologo ma sempre bisogna chiedersi cosa è successo in quella persona perché la coagulazione ha esagerato, ha funzionato troppo e quindi ha formato un coagulo che ha chiuso per un tempo sufficiente un vaso tanto da far soffrire o morire le cellule che ricevevano un'opera Però Lidia, si dice che ci sia almeno un caso su tre, una persona su tre in cui questa roba qui sia evitabile, cioè questo circolo malevole, la trombosi è evitabile, come? Allora, i numeri della trombosi sono spaventosi perché se noi calcoliamo le malattie causate dalla trombosi sono circa 600.000 casi ogni anno solo in Italia, sono la prima causa di morte e anche di grave invalidità e lo sa bene chi ha visto da vicino un ictus cerebrale, chi ha visto un infarto, ma possono essere evitate in un caso su tre come facendo squadra, quindi noi abbiamo medici che sono competenti, abbiamo strumenti che sono la diagnostica, abbiamo medicine e farmaci che sono straordinariamente efficaci, abbiamo bisogno del paziente, il primo e più importante è il paziente perché il paziente deve imparare a conoscere quali sono i sintomi e i premonitori e quindi se ho una gamba che improvvisamente si gonfia più dell'altra e ho appena avuto un trauma, oppure ho un mal di testa molto feroce ma ho una malattia infiammatoria, ho la febbre alta, beh allora ci sono dei sintomi che non vanno sottovalutati e quelli soltanto il paziente li può adivinare. Senti, mi viene una curiosità Lidia, ogni tanto sento parlare di sindrome della classe economica, cos'è questo sindrome della classe economica? E' stato un modo leggero. Non è una malattia classista questa? No, questa è una definizione che è derivata dal fatto che c'è stato un caso di una trombosi venosa profonda, quindi una trombosi delle vene di una gamba che si è formata in una giovane donna che stava volando dal Brasile all'Australia e che a metà del volo, avendo questa trombosi della quale non si era accorta, dal trombo sono partiti alcuni frammenti che sono diventati emboli, sono andati al polmone, quindi al cuore e poi al polmone e hanno determinato un'embolia polmonare e la ragazza ha perso la vita. Allora, la sindrome della classe economica non deve spaventare, non è che tutti noi quando saliamo in aerea dobbiamo metterci le calze elastiche per forza a prendere l'aspirina. No, è uguale perché la sindrome della classe economica avviene anche in business e anche in prima classe, dipende dalla pressurizzazione, dal fatto che beviamo meno, dal fatto che ci muoviamo meno, quindi è un modo gentile per definire degli eventi che possono essere più probabili quando le persone volano chi? Persone che sono sovrappeso, dormono tutte a cartocciate, portano biancheria troppo stretta, quindi l'effetto legaccio. Noi dobbiamo, di solito la trombosi della sindrome della classe economica è da trombosi venosa, quindi sono le vene soprattutto delle gambe, però ci sono trombosi delle vene e delle braccia, ci sono trombosi ovunque, quindi l'importante, quello che io vorrei portare a termine, ma anche di tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, mi piacerebbe che non ci fosse più nessuno che ogni giorno potesse dire io non lo sapevo, perché questa comunicazione è una comunicazione che sembra semplice, ma ancora... Infatti è giusto che tu lo ricordi, lo stress una volta di più ai nostri amici a casa Lidia, perché io non lo sapevo, esatto, non deve più funzionare, ci deve essere. Io non lo sapevo, non vale. Però no, abbiamo ancora finito, perché ho un po' di curiosità, per esempio, da esportivo e da sportivo, ti dico che mi ha sempre incuriosito immaginare il tipo di rischio che corrono taluni sportivi e professionisti, in particolare se faceva riferimento ai ciclisti, quando tu vai in altitudine per ossigenarti, fai più globuli rossi, hai un ematocrito come succedeva soprattutto con i neri passati, adesso male, ematocrito vuol dire che è tanto concentrato il sangue e tanto spesso, a un punto tale che addirittura alcune squadre devono svegliare le tre di notte, le quattro di notte per ripedalare, per cercare di muovere questo sangue denso, quindi il rischio era un rischio, in qualche modo è tenuto importante, pur in professionisti dello sport e quindi attrezzati eccetera. Allora, lasciamo perdere il discorso delle sostanze cosiddette proibite, quando una persona va in alta montagna ad allenarsi, nell'arco di una settimana il midollo osseo, che è quello che produce i globuli rossi, capisce che c'è minore tensione di ossigeno nell'aria e quindi che cosa fa? Butta fuori una quantità di globuli rossi maggiore, quando scendi a valle avrai il vantaggio di avere questi globuli rossi che dureranno più di 120 giorni, ogni globulo rosso vive 120 giorni e che quindi ti daranno una migliore ossigenazione, questo è un processo naturale con il quale una persona può migliorare la sua ossigenazione. Quando prendi delle sostanze che accelerano in modo naturale, quindi la densità del sangue è un fattore molto importante e noi molto spesso troviamo in persone qualunque che non sono sportivi, che non usano l'anabolizzante, troviamo un sangue troppo denso perché non bevono abbastanza, quindi l'idratazione è sempre molto molto importante. In me oltre ad essere un esportivo e sportivo sono anche spesso un traumatizzato e qui mi domando, i traumatizzati, ultima cosa che ti chiediamo Lidia perché lo sappiamo i nostri amici a casa, è giusto che i traumatizzati o chi fa per esempio un intervento cronologico importante debba fare qualcosa di profilassi. Ma i nostri medici questo lo sanno, ormai per fortuna la cultura medica è arrivata a definire tutte quelle situazioni nelle quali il paziente è a rischio, per esempio nei pazienti che hanno un trauma di una caviglia, di un ginocchio, fanno un intervento chirurgico soprattutto ortopedico, è previsto che il paziente poi venga protetto con dei farmaci appropriati, con la calza elastica se c'è bisogno. Poi ci sono i casi dei grandi traumi per esempio dei giovani, è successo a me tante volte di vedere in terapia intensiva, dei giovani ragazzi che hanno un grande trauma, che rimangono immobilizzati in terapia intensiva dove il rischio che corri è che per fluidificare il sangue in modo che non abbiano una trombosi, purtroppo avendo avuto un trauma cranico devi anche stare attento a non farli sanguinare, ecco questo delicato equilibrio fra ti sciolgo il sangue perché tu non trombizzi ma non troppo perché tu non sanguini è una cosa sulla quale ancora c'è tanto da fare. Il tuo argomento è talmente grande ma talmente grande così importante ma sono convinto che abbiamo lanciato dei messaggi a casa utilissimi, poi l'hai fatto con una tale passione, proprietà di linguaggio e facilità di linguaggio per tutti che ti siamo veramente grati. Grazie Lidia Rotter, grazie ancora per essere venuta da noi, prossimo ospite adesso è Susanna Esposito, professoressa di pediatria dell'Università di Parma con la quale parleremo di Covid dei bambini, altro argomento veramente importante, via servizio per Susanna. Quasi 26 milioni di persone infettate sono i numeri relativi al Covid-19 nella popolazione italiana secondo i dati raccolti da Fondazione Gimbe. In Italia e nel mondo la pandemia ha toccato anche i bambini, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi con manifestazioni non gravi. La maggior parte dei bambini infettati dal Covid-19 manifesta infatti una malattia lieve che non richiede il ricovero in ospedale, rispetto agli adulti i bambini hanno una minore possibilità di sviluppare la polmonite interstiziale che è tra le complicanze più gravi dell'infezione e spesso causa del ricovero in terapia intensiva. L'avvio del nuovo anno scolastico, con il pieno ritorno alla vita di comunità, riporta il tema Covid e contagio tra i più piccoli alla ribalta, anche perché il contagio ha ripreso a galoppare. Susanna Esposito è professora ordinario di pediatria all'Università di Parma, direttore della clinica pediatrica dell'ospedale Pietro Barilla di Parma e presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici. Ciao Susanna, benvenuta a Medicina Top. Ciao Marco e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie, è un piacere averti con noi Susanna. Ma i numeri del contagio stanno crescendo, è una nuova variante, di cosa si parla? Perché i numeri del contagio stanno crescendo? Ahimè, purtroppo ci siamo abituati con queste ondate pandemiche al fatto che il SARS-CoV-2 tende a cambiare, come spesso avviene per i nuovi virus respiratori, diciamo prevalentemente respiratori e quindi è comparsa ora una nuova variante che innanzitutto determina malattia nei soggetti che sono stati vaccinati tempo prima o quando hanno avuto Covid molto tempo prima. E poi naturalmente anche in chi è stato vaccinato contro altre varianti può determinare dei sintomi, seppur molto meno gravi rispetto a chi è completamente suscettibile. E per i bambini, perché tu sei una pediatra famosa Susanna, per i bambini che rischi ci sono di questa nuova variante? Adesso poi ricomincia la scuola. Certo, quello che possiamo dire infatti è che il SARS-CoV-2 è sicuramente meno grave nella popolazione di età. Approfittiamo magari Susanna per vedere la fotografia, la prima immagine. Questa immagine descrive molto bene quello che è l'andamento del SARS-CoV-2 nella popolazione pediatrica, perché? Perché dimostra quelli che sono i casi più gravi che hanno richiesto l'accesso in terapia intensiva e quelli che sono stati i decessi. Purtroppo, ahimè, di Covid sono morti anche i bambini, alcune centinaia di bambini in generale a livello globale. Quello che si può osservare è come la fascia di età che ha presentato le manifestazioni cliniche più grave sia stata quella del bambino piccolo, cioè sotto l'anno di vita. E come in altre fasce di età comunque si siano osservate complicanze prevalentemente gravi nei soggetti con patologie sottostanti. Però sappiamo anche come il Covid si sia diffuso con molta facilità tra gli adolescenti. se ricordiamo durante le vacanze di Natale del 2021-2022. Sembra così lontano, ma è ieri. Sì, sì, assolutamente. Il numero di ragazzi che hanno avuto il Covid è stato elevatissimo e questo poi porta alla diffusione delle epidemie. Allora, come sempre, ci dobbiamo basare sul senso di responsabilità, perché iniziano le scuole. Sappiamo bene come tutti i bambini e i ragazzi siano contenti all'inizio di tornare a scuola, però se hanno sintomi respiratori è importante che facciano il tampone e se sono positivi per il SARS-CoV-2 che rimangano a casa finché i sintomi scompaiono e si negativi. Quindi Susanna, questa sindrome è l'on Covid, di cui abbiamo poi un'immagine per commentarla, che riguarda anche i bambini. Ci dici e spieghi alla gente a casa in due parole cosa vuol dire? Certo. Seppur il Covid come malattia acuta è decisamente meno grave nella popolazione di età pediatrica rispetto all'adulto, invece le sequele si verificano con una frequenza solo di poco inferiore nel bambino rispetto all'adulto. E queste sequele nel bambino, differentemente dall'adulto, sono caratterizzate da sintomi che spesso coinvolgono la sfera, possiamo dire, neurologica o psicologica, ad esempio cefalea, vista annebbiata, difficoltà a concentrarsi, disturbi nel sonno. Per quanto riguarda invece la componente cardiaca e respiratoria, questa è molto meno interessata nel bambino rispetto all'adulto. Per quanto riguarda la componente respiratoria, in alcuni casi i bambini lamentano una difficoltà sotto sforzo che poi però si traduce in un quadro di assoluta risoluzione più caratterizzato da un'ansia generalizzata. Certo. Cioè il bambino che acquisisce l'infezione del SARS-CoV-2 è spesso molto preoccupato, anche il ragazzo, e perciò mette in atto tutta una serie di meccanismi che poi portano alla persistenza di sintomi sfumati e specifici che non gli permettono però di fare la sua vita normale addirittura per tre mesi, perché si parla di Long Covid dopo tre mesi della persistenza di sintomi. Senti, e invece, oltre al fenomeno Long Covid, secondo te, Susanna, questa è una risposta da medico e da medico colto, è famoso come sei, per chi ha avuto Covid manifestazioni importanti già negli anni passati, ci sarà qualche possibilità di avere rischi maggiori di avere un'altra volta Covid o non Covid o in qualche modo alla fine tutti a questo punto dovremmo essere tutelati chi dà la malattia, chi dà i vaccini e quindi avendo la stessa situazione di rischio? Perché è una domanda che i nostri amici a casa si fanno, cioè chi l'ha avuto magari in modo importante l'altra volta rischia più o meno degli altri, adesso è uguale. Questa è una domanda difficilissima, di sicuro però si stanno studiando le caratteristiche genetiche degli individui che hanno Covid grave perché sembra che sia in un certo senso una loro predisposizione, nel senso che è chiaro che come sempre nelle malattie infettive bisogna bilanciare quelle che sono le caratteristiche del sistema immunitario dell'ospite e quella che è la carica virale, la patogenicità della variante virale e tutto, però ci sono degli individui che hanno delle manifestazioni peculiari, le forme più gravi che nel bambino sono le cosiddette MISC, cioè la sindrome da risposta infiammatoria multisistemica e anche in merito alla efficacia dei vaccini ma soprattutto in merito alla tollerabilità dei vaccini ci sono alcuni soggetti che hanno sviluppato effetti collaterali, che sostanzialmente sembrano essere dei soggetti con una loro predisposizione, ciò significa comunque che se uno ha avuto il Covid grave e comunque si presenta nel caso dell'età pediatrica delle condizioni di rischio che possono giustificare una malattia grave deve essere nuovamente vaccinato proprio adesso con l'inizio della campagna antinfrensale. Senti e tornando facendo un passettino indietro Susanna, tornando ancora ai bambini all'inizio del momento scolastico, del periodo scolastico, tu dovresti dare dei consigli ai genitori perché sono tanti e sono genitori e i nostri amici a casa, che consiglio daresti? In primis se il bambino ha dei sintomi comunque, raffreddore, tosse, cioè qualcosa di più normale che una condizione di salute ottimale, fare il tampone perché il senso di responsabilità individuale della singola famiglia è fondamentale per evitare... Perché oggi ho sentito un po' di voci in cui i tamponi in questo momento passano nel secondo piano, capito? Lo so, certo, però ricordiamoci che quando poi si diffonde l'epidemia c'è sempre quello a cui la malattia va male e l'altro elemento da ricordarsi è se uno prende l'autobus, il treno, piuttosto che se sta in luoghi affollati, avere sempre dietro o comunque un disinfettante per le mani e indossare la mascherina in luoghi affollati. Cioè facciamo una specie di piccolo passo indietro ma le precauzioni sostanzialmente sono come quelle dell'altra volta. Sì, cioè il vero passo indietro è la chiusura delle scuole che è stata drammatica per l'impatto sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi e perciò il concetto è con un po' di responsabilità e rispettando quelle che sono le norme comportamentali principali si può evitare di trovarsi nelle condizioni catastrofiche che hanno visto la scorsa epidemia. Speriamo proprio che non si accoglie Susanna, invece Susanna parlando di vaccinazione perché è impossibile non parlare di vaccinazione, il tuo consiglio particolare in merito che si farà? Allora è uscito nel circolare ministeriale molto chiara il 14 agosto cioè per quanto riguarda la vaccinazione anti covid per l'età pediatrica al di là delle gravide per cui la vaccinazione è raccomandata in qualsiasi trimestre di gravidanza la vaccinazione è raccomandata solo nei bambini con una patologia cronica sottostante. Negli altri di per sé non è raccomandata. Certo il vaccino è utile a tutti, non dimentichiamoci che la vaccinazione influenzale ormai da alcuni anni è raccomandata per tutta la popolazione pediatrica anche sana dai sei mesi ai sei anni. Perciò l'invito per i genitori è di rivolgersi al proprio pediatra, di illustrare quelle che sono le caratteristiche cliniche del figlio e di valutare quelle che sono le indicazioni migliori. Tornando alla tabella, scusa Susanna che la regia ci faceva vedere. Questo è un documento che abbiamo steso come tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni. Infatti volevo che venisse ben focalizzato dai nostri amici a casa. Abbiamo proprio detto che è molto importante che ci si confronti col proprio pediatra per evitare di informarsi su internet, farsi prendere da condizioni di emotività, scegliere sulla base di quello che fa l'amico o l'amica. È molto importante confrontarsi col pediatra perché ogni bambino ha la sua storia clinica e quindi è questa che deve condizionare la scelta. Mentre per l'antinfluenzale per sei mesi ai sei anni è raccomandata comunque a tutta la popolazione. Dopo i sei anni solo per i malati. A me sembrano queste Susanna dei consigli molto importanti. In ultima battuta volevo approfittare della tua esperienza in materia per sapere anche da te non sei la prima che ci dà un parere di questo genere. Alla fine quale è stata la tua impressione generale sul covid e se la tua immaginazione Susanna arriva al punto di pensare che la nostra vita, covid o non covid, sarà sempre condizionata alla situazione tipo covid? Che detti sei fatta da questi ultimi anni che quando ti ricordi studiavamo all'università erano abbastanza inimmaginabili. Certo, certo. Ahimè, io penso che quello che si è dimostrato è come gli agenti infettivi tendano a superare qualsiasi tipo di meccanismo terapeutico che noi mettiamo in atto. È la prevenzione l'arma vincente e se noi pensiamo alla storia della medicina negli ultimi 50 anni vediamo che grazie alla prevenzione gli uomini riescono a vivere, gli uomini e le donne naturalmente riescono a vivere molto meglio per tempi lunghi. Così vale anche per la pediatria, cioè la prevenzione è ciò che evita l'acquisizione di determinate malattie che poi possono essere difficili da gestire e infatti l'impatto delle vaccinazioni a livello globale è stato importantissimo sul crollo della mortalità per malattie infettive sia nel primo anno di vita che nell'età successive pediatriche. Quello che va poi sottolineato è come questa epidemia ci abbia anche dimostrato molto bene l'importanza di una terapia mirata perciò l'abuso di antibiotici che è un elemento molto rischioso. Siamo parlato anche di questo nella partita precedente. Certo, per l'emergere dell'antibiotico resistenza deve essere una tematica da gestire con estrema cautela per cui proprio a riguardo credo che questa esperienza del covid ci ha dato. Tu oggi hai mandato, è stata molto brava, hai mandato dei messaggi molto importanti per i nostri amici a casa ed è stata un'intervista piacevole ma soprattutto utile a tutti quanti. Grazie mille. Grazie Susanna per essere stata ospita medicina top, è stato un vero piacere averti con noi. Dopo Susanna il prossimo ospite è Filippo Ongaro, virgolettato il medico degli astronauti, che ha portato su terra il mix di nutrizione, stress, management e forma fisica messo a punto per gli equipaggi stellari. Quindi sarà molto importante, via il servizio. Sensazione di essere sopraffatti dagli impegni, preoccupazioni costanti, difficoltà a concentrarsi e a prendere sonno sono alcune delle tipiche condizioni legate allo stress. E tutti più o meno ne soffriamo. Colpa di uno stile di vita che ci porta ad essere sempre connessi a tutte le ore, rendendo difficile staccare e dell'interiorizzazione di modelli personali sempre più inarrivabili. Lo stress è una condizione sempre più diffusa, come dimostra la ricerca condotta nel 2022 da Human Highway per Assosalute, associazione nazionale farmaci di automedicazione. Secondo questa indagine, in Italia 8 persone su 10 soffrono di almeno un disturbo riconducibile allo stress, tra mal di testa, ansia, tensioni muscolari e disturbi del sonno. Lo stress modifica anche spesso lo stile alimentare, aumentando l'assunzione di grassi e carboidrati o al contrario sopprimendo l'appetito. E quando è prolungato nel tempo può portare a veri e propri problemi di salute, alterando il sistema immunitario e aprendo la porta a vuoti di memoria e problemi cardiaci. Filippo Ongaro ha lavorato a lungo come medico accanto agli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea ESA, occupandosi di nutrizione, preparazione fisica e riabilitazione psicofisica degli equipaggi. Un approccio a benessere che poi ha messo a disposizione di tutti. Ciao Filippo, benvenuto medicina top. Ciao e grazie a voi per questo invito. Molto felice di averti con noi. Quindi l'aspetto fisico nel tuo approccio Filippo va di pari passo con quello emotivo e la gestione dello stress è il problema che ci riguarda sempre di più alla fin fine. Ti chiedo due consigli semplici, semplici per affrontare la vita di tutti i giorni e diciamo farci sopraffare dagli impegni e dalle preoccupazioni. Cosa diresti tu a ognuno di noi? Eh guarda una domanda non facile in realtà, sembra facile ma non lo è. Ovviamente è chiaro che tutto l'aspetto della cura dello stile di vita, l'alimentazione, lo sport, la qualità del sonno sono cose importantissime anche per gestire meglio lo stress, ma mi verrebbe da dirti due cose un pochino diverse. La prima di abbassare un po' le proprie aspettative. Ogni tanto... È importante questo secondo me, capito? Sì, ogni tanto si vedono quelle liste di task giornalieri che dici ma se sei un robot ce la farai mai a fare stanno tutto il giorno. Quindi avere una maggiore consapevolezza anche dei costi di quello che facciamo, non soltanto del desiderio di farlo. E dal mio punto di vista poi c'è anche da dire che bisogna contrastare un po' il proprio modello di pensiero. Le preoccupazioni sono una cosa molto diffusa. Fortunatamente per noi la stragrande maggioranza delle nostre preoccupazioni non si realizza mai, però nella nostra testa crea un surplus di stress. Quindi anche semplicemente con uno strumento banale come la scrittura, ogni tanto provare a dirsi, a scriversi le proprie preoccupazioni, a domandarsi ma è veramente probabile che questa cosa accada, pone un freno e rallenta un po' questo stress mentale. Ma cosa non si considera Filippo dello stress solitamente? Io credo che quello che non si considera sono tante cose. Da un lato non si considera quanto effettivamente abbia un impatto sulla salute, lo sappiamo, ci sono molte patologie connesse con i livelli di stress. Dall'altro lato penso anche che non si sappia però che lo stress si può gestire, cioè moltissime persone danno per scontato che sia impossibile vivere una vita con un livello di stress più basso. In realtà la ricerca ci dice che la meditazione, le tecniche di rilassamento, insomma, sono molto efficaci nel gestire lo stress meglio. Quindi credo queste due cose. Da un lato il pericolo e dall'altro però anche l'opportunità di intervenire sul serio per ridurlo. Quindi se tu hai a che fare, anzi a che fare tutti i giorni, con pazienti che ti parlano degli stessi problemi, dei loro impegni, dello stress, di come sono condizionati, in prima battuta ti fai raccontare. E poi invece Filippo che suggerimenti dai? Ogni volta affronti il differente candidato... Sì, allora noi diciamo lavoriamo in un'ottica legata al coaching oggi, più che all'ambiente clinico. Quindi per noi è molto importante riuscire a stimolare la persona a cambiare abitudine, a cambiare stile di vita partendo da dei piccoli passi. E questo vale anche per lo stress. Cioè se la persona si sente veramente sopraffatta dallo stress, bisogna attuare qualche cambiamento nel programma giornaliero, nella modalità in cui la persona dorme o piuttosto non dorme a sufficienza. Io credo anche moltissimo che lo stress psicologico si contrasta bene iniziando a fare un po' di attività fisica, perché è vero che l'attività fisica è un agente stressante, ma non solo un psicologico però. Però è un giusto mix. Esatto Filippo, io nel mio piccolo, senza essere stato medico degli astronauti, ho sempre pensato che l'attività fisica mi aiutasse a gestire momenti di maggiore stress, di maggiore fatica, di maggiore tensione e ho imparato con gli anni a capire che l'attività fisica non è fatta perché vado a fare la maratona a New York, mi basta correre 45 minuti, non è fatta perché io faccia lo stretto di Messina, ma mi basta nuotare mezz'ora. Cioè ognuno deve farla commisurata al fatto che sia più guadagno e meno svantaggio. Sì e questo è un ottimo punto perché sai bene anche tu che poi queste cose diventano un altro gioco dell'ego, devo far di più, devo spingere di più, allora poi diventa più il danno che il beneficio. Invece se gestita nella maniera corretta, oltre ad essere fondamentale per la salute dell'organismo, lo è anche sul piano psicologico. È vero Filippo, però hai fatto bene a ricordare anche tu i nostri amici a casa, però devono anche sapere che questo voglia o smagna di superarsi, alla fine si somma, tutto viene sommato. Io te lo dico perché ho fatto lo sportivo, ho giocato a balacanestro, ma ho fatto anche il medico in contemporanea, studiamo medicina e poi ho capito solamente da pochi anni quanto tutti i miei salti di allora e i terzi tempi, le cadute, i rimbalzi si sono sommati uno sull'altro, sull'altro, sull'altro e questo avviene penso che negli aspetti psicologici, giusto? Sì, sì, sono d'accordo e noi tendiamo sempre a non avere chiaro questo effetto cumulativo, questo effetto cumulativo dello stress e delle azioni che facciamo nella nostra vita e in realtà tutto si somma, gli errori si rischia di parli, ma paradossalmente anche il tentativo di riparare gli errori, se non è fatto correttamente, non è dosato, rischia di peggiorare la routine ha grande importanza, perché Filippo? Ma io credo che la routine sia un po' un'ancora, è una modalità operativa a cui ritorni in particolar modo quando ci sono periodi più difficili, io ho notato nella mia esperienza, soprattutto nell'ambito del coaching, che chi ha una routine anche davanti a grandi ostacoli, a grandi problematiche, non perde completamente il filo delle proprie giornate, chi invece non ce l'ha, comincia classicamente sempre a togliere le cose che sono, diciamo così, che danno un beneficio immediato più basso e che sono però quelle che danno il beneficio a lungo termine, infatti lo stress comporta anche un cambiamento delle abitudini alimentari, per esempio, proprio perché vai a cercarti quel compenso che ti manca dall'altro, dal cibo, no? Certo, anche la nutrizione, hai toccato un altro argomento, Filippo, che è la nutrizione, che mi pare altrettanto importante, tu ti interessi anche di quello, e come si interseca la nutrizione con questa situazione di stress, routine, eccetera? Eh, io credo che si intersechi veramente molto, cioè io non credo più che ci siano persone che non sanno che i broccoli sono più sani delle patatine fritte, ormai lo sanno anche Ci siamo, esatto, infatti. Esatto, quello che io penso è che tante persone abbiano un livello di stress e una situazione psicoemotiva che fa sì che il cibo diventi un compenso molto facilmente raggiungibile. Per cui se tu dovessi mandare, Filippo, per esempio, un messaggio a casa ai nostri amici per aiutarli, a tutti quelli che ci seguono, il consiglio di Filippo Ongaro riguardo l'alimentazione, qual è, Filippo? Non esagerare, di base. No, allora, tutti, soprattutto in ottica longevity, oggi sanno che bisogna cercare di mangiare un po' meno, insomma, questa è la filosofia di base, è curare i nutrienti, quindi un'alimentazione ipernutriente ma tendenzialmente ipocalorica, dopodiché però se non riesco a farla per una ragione legata appunto allo stress o alla condizione psicoemotiva, bisogna lavorare un po' a monte, a ridurre i giri del motore perché altrimenti non riuscirò a restare su quel regime, questo è un po' il problema poi. Però è proprio interessante. Ascolta, parliamo del tuo periodo in mezzo agli astronauti, il tuo lavoro di medico in mezzo agli astronauti che è veramente fantastica come cosa da pensare ad aver vissuto da parte tua, cos'è che hai imparato da loro e cosa può essere utile anche per le persone che non sono astronauti? Beh, sai, quello che ho imparato che mi ha anche sorpreso allora è che gli astronauti in orbita sei mesi invecchiano l'equivalente di dieci anni se non hai un programma di contromisure che è fatto di alimentazione, attività fisica e gestione dello stress, guarda caso. La cosa interessante è che quando hanno questo programma e hanno la possibilità di farlo a bordo della stazione spaziale questa velocità di invecchiamento rallenta in maniera drastica. Quindi io ho avuto sul campo questo esempio visibile di dire ma questo è stato in orbita svariati mesi e per ragioni per esempio tecniche, cioè mancava lo strumento a bordo della stazione che gli permettesse di fare un certo allenamento è tornato in una condizione. Quell'altro che invece si è allenato bene è tornato in condizioni completamente differenti. Quindi è stata veramente la prova provata che i suggerimenti che tu ci hai dato in questi minuti. Assolutamente sai l'assenza di gravità alla fine è un'iper sedentarietà, è una cosa che sarà molto simile a quello che succede a noi a terra se non ci muoviamo abbastanza in tempi più lunghi. Filippo Ongaro ci hai dato un sacco di suggerimenti importanti ma così importanti che lasciano aperte un sacco di curiosità. Io personalmente a mio punto di vista ho deciso che quando finalmente diventerò stramega miliardare ti proporrò di venire a lavorare solo con me se potessi, con me e per me. Comunque è stata veramente utile a tutti ma ci permetteremo di coinvolgerti qualche altra volta perché sono argomenti che sono veramente direttamente utili a tutti e le hai espressi veramente in modo simpatico e appropriato. Grazie Filippo per essere stato ospite a Medicina Top. Grazie a voi assolutamente. Dopo aver ringraziato l'eccezionalità dell'ospite di Filippo Ongaro chiudiamo la nuova puntata di Medicina Top dando appuntamento a voi tutti i cari nostri amici alla prossima puntata con altri ospiti altrettanto interessanti. Grazie a tutti e saluti da Marco Klingaro. Grazie a tutti.